Buongiorno cari amico da Pablo, il giorno è oggi. Che cosa faccio? Faccio un allenamento per saltare, fare un po' il salto verticale, spingere di più. Mi raccomando, mi raccomando. Prima ho fatto un video che ho fatto in palestra, questo oggi lo faremo così in area aperta, questo sto aspettando che venga il sole. Sto grabando oggi 30 di dicembre, a tutti, un buon anno. Come dice in Argentina, vamos a spagarla, vamos a romperla il prossimo anno con tutto. Un saluto molto speciale a Cristian Cuadro, a Nicola Bua e a Giuseppe Boruto. Guardate questo esercizio, lo faremo, lo faremo, lo faremo, lo faremo, lo faremo, lo faremo. Questo esercizio va fare tutto il sport, basquets, balabolo, calcio, tutto il sport di explosività. Le consiglio, la gente che vuole esercizare, vuole saltare tanto, dobbiamo lavorare tantissimo la gamba, metere un po' di peso, 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 un po' di potenza per potere spingere. Anche dobbiamo fare un buon stretcio, stretcio importantissimo, dobbiamo stare un po' sciolto, un po' libero, un po' quasi come una piuma, suave. Anche dobbiamo fare un esercizio, dobbiamo lavorare anche l'addome, l'addome, l'addome. Quando dobbiamo spingere, l'addome sempre forte, forte, forte. e il riscaldamento, che non può mangiare, riscaldamento con stretcio. Ok, vamos a iniziare, vamos a iniziare, ho fare, ho fare, ho fare, ho, tono, questo esercizio. Voy a aiutar un pochino, mira comando, mira comando, va a dar il massimo, il massimo, ta, se inicia. Molto bene, molto bene, molto bene. Otro esercizio che è importante fare fare, fare, per guadagnare e saltabilità, saltare la corda, saltare la corda. Il nostro primo esercizio che abbiamo fatto nel primo video, scusa, l'ho fatto saltando solo con due piedi, con due. Adesso lo faremo con un solo piedi, possiamo fare questo almeno 15 secondi o un minuto, dopo poi cambiamo di gamba. Vabbiamo a fare questo, guarda, con un solo piedi, solo piedi. Questo ti dà un pochino di resistenza al polpaccio, guarda, al polpaccio. Ta 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 ta, importantissimo, importante. Tramortiguare la caduta, dopo poi cambio, guarda. Adesso, due, 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 salto, salto in alto, salto in alto, salto in alto, tipo, tipo skipping, 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 guarda, skipping, ta, con uno, uno solo, uno. Cambio. Eskipping, skipping, 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 ta 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 ta. Cuanto medio. Paso al otro ejercicio que es importantísimo, ver saltare. Un altro ejercicio buono para hacer la gamba, el mountain climber. Il mountain climber mi aiuta tanto con dañar un po' di potenza alla gamba, anche a tuo abdomen. Podiamo fare un circuito di 4, di un minuto. Questo, questo, questo aiuta tanto alla gamba. Veloce, veloce. Abbiamo il prossimo esercizio, il prossimo, il prossimo. Ok, questo, questo è più facile, questo è più facile, basta. Questa è più facile, va alternato. Un, uno, tra, 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 di nuovo che tu, tra, 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 di nuovo. Cambiamo, cambio di esercizio, cambio di esercizio, se va il prossimo, tutto per la gamba. Mira il comando, questo lo potete fare, 3 serie di quindici salti. Mira il comando, questo esercizio mi piace tanto, mi piace tanto, questo esercizio del squatting. Questo è un po' di potenza per la gamba e anche al gluteo. Que cosa fare? Lo fare è il squatto con saltabilità, con il cuore. Aiuto le mani. Sube, amostigua la caluta. Tra, giù, tra, tra, tra. Questo esercizio ti aiuta tanto a guadagnare un po' di potenza in la tua gamba. Mira il comando. Si va. Cambio di esercizio, andiamo al prossimo. Ah! Questo è mi piace, questo è mi piace. Pura forza di gamba, 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 gamba. Vediamo con prendere un po' di potenza. Ok, questo esercizio lo potete fare. Io lo faccio così un po' exottico. Tu lo potete fare in campo di basket o al muro, dove tu vai. Guarda il esercizio come è. Tipo burdi, guarda. A terra. Salto, salto. A terra. Salto. A terra. Salto. Forza di gamba. Salto. 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 Dietro. Salto. 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 Si sente la gamba了, no? Se sente. Mar Nada. Ok, ok, se sente la gamba. cambio di esercizio, cambio ok, il prossimo esercizio saltiamo un po' il gradino questo esercizio lo potete fare a casa si a casa avete sul tavolo no, no, che cosa ha detto non lo potete fare in palestra o anche al parco in questo momento mi trovo al parco quando faccio una graderia lo potete fare qua questo esercizio aiuta a dare forza e potenza a tua gamba così potete usare il salto molto verticale che voglio fare, voglio fare 10 saltini tu lo puoi fare a casa, mi raccomando l'importante, ammortiguare la caduta vamo a iniziare con il più basso dopo con il più alto ok, mi aiuto con le mani 1, ammortiguo la caduta 2 3 5 adesso più alto più alto fermo di nuovo di nuovo 3 3 3 3 3 ok ultimo andiamo ok ok perfetto passiamo al otro esercizio che fa bene abadañare saltabilità ok questo esercizio è un po' di rapidità un po' di agibilità questo lo consiglio per tutti sport suizzer per il scambio quindi sempre la scambia è la scambia 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 Ok, il nostro prossimo esercizio, cambio, molto bene, molto bene, siamo arrivati a questo esercizio che mi piace tantissimo, un esercizio di addomen, 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 questi sono tre questo esercizio che per mi sono molto fondamentali di fare, che ti aiutano a spingere quando fai il salto verticale, iniziamo con la rotella, chi non ha la rotella lo puoi fare un altro, guarda, questa è la postura, guarda, diretti, tra, questa la rotella, due volte in più, ok, 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 la rotella, lo so che sono persone che sono più forte, più allenata, vuole qualcosa più, più tosto, più duro, 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 difficile, guarda queste, tra, ta, vuoi accendere lentamente, guardalo, guardalo qua, ta, ta, scendo, salto, nuovamente, nuovamente, lo ripeto, lo ripeto, guarda, ta, scendo, ta, guardala, ok, wow, importante il addomen e il addomen, il addomen quando triumphiano, sul ultimo exercice di addomen, STROM will 是итсяura il mater arbit orthogo, guarda, 30 segù, perfetto, adesso passiamo un prossimo esercizio, è importante elaborare sempre l'abdomen quando volvemo saltare anche tanto, un abdomen forte, ci aiuta spingere, e per terminare, questo esercizio mi sembra un pochino facile, però anche un po' difficile, questo esercizio è buono per dare potenza alla gamba, questo esercizio mi piace tanto, mi piace tanto, sembra un pochino facile, però tu lo fai, tu lo fai a casa, guarda, lo due, tre, tre, due, nuovamente, 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 pura potenza di gambe, 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 due, tre, salto, tre, forza, forza nelle gambe, così tu sei sempre carico e tonico per spinger nel salto, aiutate con le mani, uno, due, tre, tra, ok, tra, forza, ok, perfetto, vamo a realizzarlo, vamo a provare il salto, dopo questa teoria che faccio, a provare il salto, vedo un pervistingo, loro vedo un salto, frontenati tu lo podia fare, vedo un comando, devo provare che sono due anni che faccio una droga per ver thy provare, mi ram.. vedo un pochino, anche tu lo puoi fare, ressi fat fu第一 volte, baila, era così Piano, 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 ultima volta! Ultimo, ultimo intento! Provo! Io ci provo, io ci provo, le metto il cuore, anche tu! Anche tu lo puoi fare! Mira comando! Fuisi mas! A ti! Avete visto? Guardalo guardalo libre! Bravo! Y fratello guarda frote! Io io! Hai visto? Anche tu lo puoi fare! Mira comando! Constanza! Dedicazione! Lo voy a repitere nuovamente! Un buon anno! Sono pronto! Vai! Tu lo puoi fare? Che lo faccio io guarda? Due anni che non lo faccio tu! Che non faccio saltabilità! Mira comando! Fisi mas! Acti! Avete visto? Ok, ok, ok! Per tutti! Un buon anno! Molto bene! Molto bene! Se ti ha piaciuto questo video? Seguimi guarda! Mira comando! Fisi mas! Acti! Tutto il anno! Activo! Pa! De cuore! Pablo!